Si rinnova l'appuntamento con il Carnevale di Agropoli, un evento atteso da grandi e piccini che quest'anno giunge alla 51esima edizione. Di anno in anno il Carnevale di Agropoli richiama un numero sempre maggiore di persone da diverse aree del territorio regionale non solo. Gli eventi clou sono rappresentati dalle sfilate dei carri allegorici in programma domenica 11 febbraio e martedì 13 febbraio. Torna anche l'appuntamento con i dilettanti allo sbaraglio della corrida in programma il 12 febbraio al Pala di Concilio. Inoltre ci saranno altre iniziative che faranno da cornice per far trascorrere tanti momenti di allegria e spensieratezza. Tra questi Miss Carnevale di Agropoli e Miss Carnevale Baby in programma domenica 11 febbraio al Cineteatro De Filippo. Presso la Fornace si terrà a partire dal 2 febbraio sino al 18 febbraio la mossa sul Carnevale di Agropoli e poi appuntamenti con l'animazione dei bambini con Aspettando il Carnevale, il 4 e il 10 febbraio ed altro ancora. Quest'anno saranno sei carri allegorici che sfileranno per le strade cittadine realizzati a cura dell'associazione Il Carro, oltre il carro di apertura che rappresenta la maschera ufficiale. Questi i nomi e i relativi rioni che si occuperanno della realizzazione. Cagliardin, maschera ufficiale del Carnale di Agropoli, su un carro contraddistinto da numerosi palloncini. Il Capitano, rione Piazza. Il Sognatore, rione Moio. Re Carnevale, rione San Marco. Cento anni Disney, rione Piano delle Pere. Aguri Disney, rione Viale Risorgimento. Maia, rione Gromola. Come di consueto la sfilata di domenica 11 febbraio, si svolgerà con partenza dal Via Salvo d'Acquisto con arrivo in Piazza Vittorio Veneto, mentre teatro di quella prevista a martedì 13 febbraio sarà il Lungomare San Marco, sempre con arrivo previsto in Piazza Vittorio Veneto. Ad accompagnare i carri allegorici, oltre le scuole di danza, ci saranno anche le maggiorette e gli sbandilatori. Ritorno all'appuntamento con il Carane di Agropoli, afferma il Sindaco Roberto Mutalipassi, uno degli eventi cittadini più attesi. Un appuntamento che ogni anno vede la presenza di migliaia di visitatori per assistere alle sfilate dei carri allegorici che colorano le strade cittadine, donando momenti di grande divertimento. Ricco il calendario degli appuntamenti che verranno messi in campo, in collaborazione con le associazioni del territorio. Puntiamo già a partire dal prossimo anno di creare un'edizione ancora più ricca, grazie alla disponibilità di una location per la creazione dei carri allegorici, disponibile per tutto l'anno. Un'assoluta novità che abbiamo deciso di mettere in campo come amministrazione. In questo modo i mastri cartapestai avranno tutto il tempo di preparare le proprie creazioni, senza necessità e senza ridursi a poche settimane di lavoro per indisponibilità di sedi idonei. Si lavora intanto anche a destinare a quella che è una tradizione come, ormai consolidata, una sede definitiva. Grazie a tutti.